Prima volta in Italia, a Fiumicino, la 350.000 della Catai Pacific, giornaliero per Hong Kong, un'ulteriore conferma della strategicità di aeroporti di Roma. Assolutamente, siamo molto orgogliosi oggi di essere al fianco di Catai Pacific per presentare al mercato questo nuovo modello di aeromobile, un Airbus A350.000 che rappresenta veramente la frontiera da un punto di vista tecnologico e di comfort per il passeggero. In previsione dell'estate, che cosa significa avere Catai Pacific qui sul Fiumicino? Da un punto di vista aeronautico, la stagione estiva è già iniziata da un paio di mesi. Ci apprestiamo ora ad entrare nel picco, da un punto di vista dei flussi passeggeri per il nostro mercato e per il nostro aeroporto. Poter contare su compagnie aeree come Catai Pacific, che sono costantemente alla ricerca di opportunità di investimento sul mercato, per noi è una grande conferma dell'attrattività del nostro aeroporto. Quindi vogliamo ringraziare Catai Pacific per questa ennesima testimonianza e riprova di interesse per il nostro mercato.